Continuiamo ora con Great Movie Adventures, musica di John Williams, già da un giocatore di Michael Smith. John Williams è il regolatore d'orchestra e il compositore statunitense apprezzato per i rossi popoli e sonati cinematografici. La produzione del dottore, mestre, filmata e spazio dal cinema a produzione per i periodi in piedi, per le sedie tv, le sigle del testo di tv, oltre a brani sincronici e concetti per studiato su isca. Ha scritto quasi tutte le colonne sonore del film del regista Stino Spiegel. Questa sede vi faccio ascoltare Main Time, Tasta, Wars, Calori per tema di Jurassic Park e per concludere tema di 18, l'extraterrestria. Avuto. Grazie. 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 Grazie.